oggi parliamo di questa bmw z3 che non è una semplice bmw z3 ma è una rarissima bmw z3 coupé parliamo della versione con il motore 2008 6 cilindri da 193 cavalli questo esemplare dal 1999 ufficiale italiano con targhe originali bibi si trova in condizioni splendide i sedili sportivi rivestiti in pelle rossa sembrano appena usciti dalla fabbrica il volante è quello sportivo m rivestito in pelle inoltre troviamo un sacco di radica compreso il pomello del cambio un affare unico da non farsi scappare cliccate sul link qui sotto in descrizione per andare sul nostro sito www.lorenziab.it oppure venite a trovarci in sede a vedi in provincia di brescia in via artigianale 74 76 per toccarla con mano